Come mai il babysitter non è ancora arrivato? Beh, forse la cattiva reputazione di Junior l'ha terrorizzato e non ha più intenzione di venire Cesaro, non essere ridicolo, Junior è un bambino adorabile Oh, Kitty, sei un vero disastro Oh, io proprio sulla mia testa, Luigi Mario, dove ci troviamo? C'è un solo modo per scoprirlo Sai una cosa, Mario, ho come la vaga impressione che non ci troviamo più nel regno dei funghi Ma sì, hai ragione, perché se quello non è il ponte di Brooklyn, io non mi chiamo più... Ah, finalmente siete arrivati! Voi due dovete essere i babysitter Immagino che Junior vi abbia fatto entrare dal retro Sono molto felice che siate in due, perché Junior è un bambino un po' vivace Qui sopra c'è il numero di telefono del nostro dottore E questo è il numero del teatro Ma veramente noi non siamo... Il frigorifero è pieno, vi piacciono le lasagne? Ho sentito bene, lasagne Ma Mario, noi non siamo... Sssh, quelle lasagne hanno un ottimo aspetto Allora saremo di ritorno per le dieci e metta E potreste per favore fare il bagno a Junior? Passate una bella serata, la nostra sarà splendida Presto, andiamocene prima che quegli sventurati cambino idea Bene, a quanto pare fratello siamo diventati dei babysitter E adesso che cosa facciamo? Giochiamo a nascondino Voglio giocare a nascondino E voi due Bakuki state sotto Novantotto, novantanove, cento Oh ragazzi, non gli verrà mai in mente di venirmi a cercare qui dentro Bene, chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è Wow, questo posto è fantastico Wow, l'avete voluto voi Ah, caspiterina, questa sì che vita Spero che i fratelli Mario non mi trovino mai più Ehi, guardatela quello strano tipetto Deve essere del mondo reale Ehi voi, essere di questo mondo bizzarro Ditemi chi siete e dove ci troviamo Ci troviamo nel regno dei funghi piccolo Il mio nome è Cipi della casa degli Attila Io sono Bulli Attila Io invece sono Cookie von Attila E devi sapere che tutti i nemici dei fratelli Mario diventano automaticamente nostri amici Allora nel caso che quei due ottusi fratelli mi seguissero fino a qui Voi mi aiutereste a divertirmi alle loro spalle? Piccolo, ho l'impressione che questo potrebbe essere l'inizio di una meravigliosa amicizia Se Junior è finito qui si trova sicuramente nei guai Mario, Luigi, aiuto! Junior, dove sei? Ehi, pensate che debba urlare ancora Non occorre, ti stanno già cercando Oh no, c'è uno sputamine che sputa come un matto Wow, ma questo è grandioso Presto Luigi, rispondiamo al fuoco E adesso se tu riesci ad attirare i fratelli Mario fin qua sopra Faremo loro uno scherzetto che non si dimenticheranno tanto facilmente Guarda, eccola Junior Mario, Luigi, salvatemi! Aiuto! E' stato catturato da Bulli Presto, andiamo a salvarlo E' divertentissimo, non vedo l'ora di vedere che faccia faranno Sono entrato qui dentro, andiamo Tanti saluti, Babysitter Ehi, che cosa sta succedendo? Succede che due traulici Babysitter sono caduti nella nostra trappola come due polli a cotutto Mario, per me ci troviamo in un grosso guaio Sei stato fantastico, Cookie Già, e il meglio deve ancora venire, piccolo Ehi, ragazzi, questo è soltanto uno scherzo, vero? Ma naturalmente, Junior, e io mi sto divertendo tantissimo Ehi, Cookie, che cosa stai combinando adesso? Sto riempiendo di lava la caverna Che cosa? Di lava? Cosa pensavi che stessi facendo? Ti abitono, tu ci sei stato di grande aiuto Ma se vuoi sapere la verità, non è che tu ci sia molto simpatico Ed è per questo che dobbiamo liberarci di te Già, il più costo possibile! Aiuto! Guarda che razza di amici sono andata a scegliermi Comincio ad avere una fifa blu Voglio ritornare dalla mia mamma a Brooklyn Ma che cosa sta succedendo? Fratelli Mario, dove siete? Rispondetemi! Mario, io non so dove abbiano preso tutta questa lava Però sto cominciando a sudare Io ho un altro che sudare se non usciamo di qui Siamo freddi Ehi Mario, aiuto! Mi sono incastrato! Ora non pido L'abbiamo scampata bella Ragazzi avete visto la faccia di quel boccioso quando l'abbiamo gettato nel labirinto sotterraneo? Oh no, Junior potrebbe perdersi lì dentro per sempre Non mi piacerebbe dirlo a sua madre Ehi, sta attento! Ci sono delle facce di pietra! Wow, facciamo vedere a quel grosso tirapugno e qualcuna delle super famose super mosse dei super fratelli Mario D'ecco! Hop! Super Mario! Ehi, sei un vero portento Mario! Possa mia, da! Mario! Luigi, siete proprio voi! Oh Mario! Adesso è il momento di riscaldare un buon ambiente dell'abirinto sotterraneo! Molto bene! Stavolta quei due scocciatori stura lavandini insieme a quel boccioso di Brooklyn rimarranno scottati! C'è prima un'abbligio! EHi! So E' stato fantastico, voi due siete imbattibili Già, vedi, non per niente ci chiamano Super, Super Mario E tra poco ci chiameranno alla brace perché pare che i piccoli atti l'abbiano sorriscaldato il volcano Caspita, sta per esplodere Coraggio, Junior Dobbiamo trovare in fretta il modo di tappare quel cratere Ehi, è inutile Mario, non ce la faremo mai a spostarlo Ma non preoccuparti Luigi, abbiamo ancora i superpoteri dei procioni Ecco fatto, lascia andare la corda Luigi Un pochino a sinistra, ancora un po', ole Wow, è stata una cosa incredibile, sei stato davvero grande Mario E tu come novello assistente idraulico sei stato in gamba Oh, i genitori di Junior saranno a casa fra 15 minuti Wow, allora faremo meglio a precipitarci al tubo di collegamento e tornare a Brooklyn Siamo di nuovo nella mia cucina, ragazzi, è grandioso Junior, siamo tornati Oh, oh, se non mi fate subito il bagno la mamma non vi chiamerà più a farmi da babysitter Sempre che voi vogliate venire ancora E trattieni il respiro, Junior, stai per fare un bel tuffo Junior, tesoro, dove sei? Oh, cospita Junior, non riesco a credere ai miei occhi, da non credersi Oh, siete riusciti a fare il bagno a Junior? Siete liberi venerdì sera per fare da babysitter Oh, ragazzi, sarebbe davvero super 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 Grazie a tutti